Primi incontri per il nuovo prefetto di Terni, Giovanni Bruno, che si è insediato ufficialmente negli uffici di Palazzo Bazzani. Al suo arrivo è stato accolto dal vice prefetto vicario Andrea Gambassi e dagli altri dirigenti della prefettura. Successivamente ha incontrato i vertici delle forze dell'ordine per esaminare la situazione locale dell'ordine e della sicurezza pubblica. Nel suo saluto alla cittadinanza ha scritto sono certo di poter contare sulla collaborazione di sindaci, forze dell'ordine e tutte le istituzioni politiche per raggiungere importanti risultati, soprattutto in una fase in cui le nuove sfide socio-economiche connesse all'attuazione del PNRR richiedono il massimo sforzo e sinergia istituzionale.